ciao e bentrovati oggi vi voglio raccontare una cosa un po particolare dovrò stare un po di giorni in ferie forzate e segregato in casa è andata così ho fatto un tampone lunedì sera e sono risultato positivo e mi dicono anche che in questo tampone c'era una carica molto molto alta comunque come potete vedere io non ho alcun sintomo sto benissimo niente febbre niente tosse raffreddore mal di gola niente sto benissimo senza alcun problema però dieci giorni e devo stare a casa e prendiamola così faccio dieci giorni di ferie a questo punto ho pensato visto che ho un po di tempo libero chiaramente lavoro lo stesso perché anche da casa riesco a fare tante cose quindi tanti impegni li ho sempre però visto che ho un po più di tempo libero rispetto al solito chiaramente non esco non vado via a lavorare quindi sono a casa vorrei chiedervi proprio a voi mettervi in campo voi e chiedervi se avete qualche argomento di cui volete sentire parlare sia che ne abbia magari già parlato in dei video che ho fatto o magari per approfondire qualcosa di cui già parlato o magari un argomento che ancora non ho affrontato a volte magari tralascio di parlare una cosa non approfondisco qualcosa se avete qualsiasi domanda da fare me la fate e cercherò di dare le risposte al più possibile e in maniera più corretta possibile più veloce lo potete scrivere qua sotto nei commenti tutto li leggo tutti mi insegno tutte le domande che farete e cercherò di creare un video apposito rispondendo a tutte le vostre domande sinceramente avevo pensato a fare un video in diretta però non ho molta esperienza di video in diretta purché sia simpatizzante con tutta l'elettronica computer eccetera non ho esperienza di fare dei video in diretta non l'ho mai fatti e quindi non so di preciso neanche che cosa possa comportare poi essendo tutti a casa c'è un altro problema siamo a casa con i bimbi che i bimbi mi cercano ogni cinque minuti quindi trovare del tempo libero per stare online a fare un video in diretta senza aver disturbi non è facile e sarebbe proprio un delirio quindi ho pensato che la migliore soluzione sia raccogliere tutti i vostri commenti le vostre domande creare un video e da risposta in questo video a tutte le vostre domande tutti i commenti che mi avete fatto bene rimango in trevida attesa dei vostri commenti ciao